Questo evento è valutato a F come Fortnite all'incubo. Questo autunno, la vendetta è preziosa, come l'oro. La vendetta di Mida, le ombre risorceranno. Allaccia le cinture, il mondo degli spiriti ingrana la quinta. Se non puoi batterli, unisciti a loro. E preparatevi per un party dell'altro mondo con J Balvin. Grazie a tutti.